Buongiorno Beer Food Attraction 2020 ci troviamo nell'area del Loreca Meeting organizzata dalla Italgrove e siamo allo stand di Ferrero, l'azienda di Alba oggi ben rappresentata da Guido Pocobelli il responsabile del trade marketing per l'Out of Home. Guido bentornato Grazie, benvenuti a voi allo stand di Ferrero qui ad Italgrove Perché la vostra presenza si rinnova ancora una volta in quest'area dell'Oreca Meeting? Noi oramai siamo partner con Italgrove da circa tre anni abbiamo iniziato tre anni fa a presidiare questo evento che è un consesso che riteniamo interessante e strategicamente rilevante per le nostre relazioni con il mondo della distribuzione di bevande e quindi siamo volutamente fieri e contenti di ribadire la nostra presenza Una presenza che si rinnova ancora una volta e con il brand Estatè che è diventato ormai insieme alla Nutella uno dei vostri cavalli di battaglia Sì, in realtà siamo come dicevo prima da tre anni abbiamo prima raccontato innovazioni di prodotto abbiamo visto come Estatè, l'unico tè per infusione abbia introdotto una versione a zero zuccheri l'anno scorso abbiamo raccontato l'innovazione del formato in vetro da 25 CL e quest'anno invece vogliamo raccontare come questi formati sono dedicati e sono orientati a tipologie di consumo diverso in particolare all'abbinamento con il cibo Alle nostre spalle ci sono più riquadri che indicano dei suggerimenti per il consumo di Estatè nelle varie sezioni di consumo abbiamo bar, pausa, pasto veloce, ristorazione e così via Sì, è proprio questa la strategia che vogliamo raccontare oggi nella crescita di una categoria che vede il tè crescere nel consumo in fuori casa vogliamo raccontare come ottimizzare il consumo per esempio in un bar, nella pausa al bancone piuttosto che per un pranzo veloce con il formato vetro da 25 CL oppure in pizzeria a pranzo o a cena dove il formato migliore è la lattina per la sua quantità da 33 CL o anche ovviamente per tutto il consumo dell'on the go quindi sia nei bar che nei take away sfruttando il formato in P&T da 50 CL Formati che coprono tutte le esigenze dei consumi fuori casa del food service, dell'oreca e perché no anche del comparto della distribuzione automatica Sì, a noi piace usare lo slogan in formato giusto per il momento giusto nel locale giusto Bene, grazie per il contributo andiamo ad abbeverarci finalmente con una bottiglia di estate Io lo prendo zero Io preferisco il limone Buon tè a tutti